Papi, grazie a un po' leito, la che vado a essere a queste poveri chiamacchi Gana è stile, papi, è incredibile, lo ponesi in YouTube Vai e calma, vai e calma Vai e calma allora Ahi l'ho disposto, i coi l'ho disposto Oh che l'hai? E' che io voglio incontrare... ...ma che non le faci la pena... 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 ...ma che è questo qui è...